Per Bici Sport e qui Bici Sport, Mattei Moric, Mattei quinto, intanto bravo, è una delle tue corse questa, sei soddisfatto? Sarei più soddisfatto per un podio, però anche il quinto posto è un buon risultato, ho dato il mio massimo oggi, non ho seguito quando si sono mossi Schiunch e il corridore dell'8, quindi sì, è un peccato, però il quinto posto era il massimo che potevo raggiungere, anche perché non c'era collaborazione dietro nel gruppo, non c'è mai stata, abbiamo continuato ad attaccare e la gara era davvero difficile dietro. Senti, ma il percorso ti è piaciuto? Poco fa in un'altra intervista dicevi sarebbe stato meglio allungarlo prima di Montalcino e non dopo Monte Santemarie. Sì, secondo me avrebbe avuto più senso perché così la prima parte sarebbe più lunga, mentre così il finale è un po', sì, perché comunque il Monte Santemarie è il tratto più difficile e per forza devi fare la differenza lì, ma dopo lì per attaccarsi 90 km non è il massimo, non so, anche in tv forse era un pochino più noioso rispetto a magari un'alternativa di allungare il percorso prima. Senti, ma in definitiva questo nuovo percorso ti piace o non ti piace o preferivi quello di prima? No, io preferivo quello di prima. Ecco, ultima domanda, Mattei, i prossimi obiettivi, c'è la Sanremo, c'è il Nord, a cosa punti? Prima c'è la Sanremo ed è il focus totale e poi mano a mano ci sono altre gare importanti in Belgio. Perfetto, grazie e complimenti. Grazie.